ehi voi della barca e guten tag carina mademoiselle mio marito detto buongiorno piccola signora ci vuoi parlare e comunque non è molto onesto approfittarsi della mia situazione per solidarietà potreste farmi questo piacere gratuitamente e folle che folle non riempie stomaca io amoni e stomaco film come dice mio marito dire bisogno soldi per vivere 100 dollari no caro no tanto per signore importante come te ma cosa ne sapete una signora importante come me ho parlato con i rettori dell'università vogliono che io sposti subito la locomotiva dalla loro stazione certo che sono curiosi come si fa a spostare un treno che non può più funzionare voi lo sapete noi niente conoscere treni tu sbrigare da sola che gentili sono davvero commossa ora vado non vorrei disturbarvi oltre da svidania prenda ecco il denaro ho verificato ci sono tutti oh grazie finalmente non difficile avere dollari tu essere vera donna d'affari e sono in buona compagnia noi contenti fare affari con te ora tu aprire chiuse se no noi non potere aiutare te come mai non è riuscito ad aprirle non deve essere complicato ma vorva pensano i estodi e kleine madame noi trae marales non compriendo don capute nandere bordel se va zwar complicato meccanico un vermante 99 mio marito dice spiegazioni complicate non capire modo uso mio marito molto arrabbiato molto adirato molto ora telefono caput rotto questa sì che non ci voleva ma allora che cosa pensate di fare aspettare tecnico non ho tempo di aspettare vado a vedere ci sarà sicuramente un modo per sbloccare l'apertura prendi chiave barcaiolo sempre bisogno di chiave per chiuse ok grazie pronto ehi come sta la mia bambina ti pensavo proprio ieri mentre guardavo una bellissima pelvizia sei abbastanza coperta perlomeno in quelle regioni lontane non si sa mai come vestirti mamma sei carina a preoccuparti ma va tutto bene il mio viaggio prosegue senza problemi ecco quasi e quando pensi di tornare frank non vede l'ora di conoscerti frank ah ah sì il tuo cantante state bene voi due non immagini la sorpresa che mi ha fatto ieri beh no beh frank era stato invitato a una serata di beneficenza organizzata da non mi ricordo ovviamente gli hanno chiesto di cantare due o tre canzoni del tuo repertorio e alla fine figurati mi ha chiesto di unirsi a lui io tua madre sul palcoscenico davanti a migliaia di persone in effetti avrei voluto esserci non eri troppo emozionata da morire soprattutto perché non essendo stata avvisata non ero andata dal parrucchiere e non avevo neanche un abito adatto all'evento non lo metto in dubbio vorrei tanto che tu ci butti in quell'occasione vediamo un po' quando è la prossima serata di gala ci arrabbiamo dimenticato le tante perdere completamente la testa ricordati che gli amici sfuggono di mano più in fretta di quanto pensiamo farò attenzione mamma mi ha fatto piacere sentirti ti bacio anche io tesoro solo pesis su deposits calmi non Le istruzioni sono scritte in una lingua che non conosco. Le istruzioni sono scritte in una lingua che non conosco. Le istruzioni sono scritte in una lingua che non conosco. Per selezionare le chiuse di Haltenburg, premere 1. Per selezionare le chiuse di Morloff, premere 2. Per selezionare le chiuse di Königpast, premere 3. Per selezionare le chiuse di Barokstadt, premere 4. Per ritornare indietro, premere Cancelletto. Se si desidera far aumentare il livello dell'acqua, premere 1. Se si desidera far abbassare il livello dell'acqua, premere 2. Per tornare indietro, premere Cancelletto. Si desidera far abbassare l'acqua delle chiuse di Barokstadt. Per confermare, premere Asterisco. Per ritornare indietro, premere Cancelletto. La vostra richiesta è stata registrata. Purtroppo il nostro tecnico regionale è attualmente in vacanza e non c'è nessuno che lo possa sostituire. Daremo seguito alla sua richiesta entro 48 ore al massimo. In caso di urgenza, siete pregati di procedere manualmente all'apertura delle chiuse. Vi ringraziamo per la vostra comprensione. Ehi, voi della barca! Ehi! Guten Tag, carina mademoiselle! Mio marito ha detto buongiorno, piccola signora. Ci vuoi parlare? Bene, ho capito come funzionano le chiuse. Fate entrare la chiatta nel bacino. Io mi occuperò di dirigere la manovra. Goddanke, ella ist eine echte dame. Vai tu! Regola negozio and obligados la dame. Ach, zufrieden, partire otra vez. On the road again! Che cosa dice suo marito? Tu sbrigarti! Fretta a riprendere viaggio! Bene, ci rivediamo sull'altro lato, vicino alla locomotiva. Va bene? Bene! Buongiorno! 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 Ehi, vuoi della barca? Ehi! Dà, dà, chiatta passata bene. Avere ancora bisogno di noi? Ecco, la vostra chiatta ha superato la chiusa. Ora dovete tenere fede alla vostra parte dell'accordo. Yes, bella mademoiselle. Attacca loco! Mio marito dice tu ritorna a treno. Attaccare catena, poi chiatta, tirare. Va bene, mi sbrigo. Mio marito dice tu ritorna a treno. Mio marito dice tu ritorna a treno. Mio marito dice tu ritorna a treno. Mio marito dice tu ritorna. Grazie.